Buonasera e ben ritrovato al nostro consueto appuntamento di incontro. Per questo oggi ho il piacere di farvi conoscere Alessandro Primon, che è una cittadina bellunese, risiede a Feltre e che ha scritto questo libro che si intitola La Promessa, che mi diede qualche tempo fa. Dovemmo fare questa intervista qualche mese fa, poi il Covid ci ha tolto la possibilità di essere tempestivi, ma recuperiamo. Allora, questo non è il tuo primo romanzo, vero? No, io ho già scritto un altro romanzo che è ancora conservato tranquillamente nel mio PC ed era un romanzo di fantasia. Ed è stato proprio grazie a quello che ho detto, ma visto che sono riuscito a scrivere 175 pagine di fantasia, proviamo a scrivere un romanzo su una storia di un personaggio che io ho conosciuto, di un protagonista che ho conosciuto 35 anni fa. Tu sei un lettore? Un lettore? Sì, abbastanza, non sono un esagerato lettore. Cosa ti spinge a scrivere? Ma io ho sempre avuto questa passione di scrivere. Magari piccoli brani, piccole cose, ma niente di che. E quindi parti magari da racconti e poi da questo racconto puoi ampliarlo, sino ad arrivare a raccontare la storia. La storia che tu racconti è una storia vera? Sì. O in buona parte vera, poi è un po' romanzata chiaramente. Ho dovuto romanzarla perché il protagonista che io ho conosciuto 35 anni fa e che non so se è ancora vivo e dove sia, mi ha raccontato alcuni fatti, alcuni pilastri di questa storia. Sono pilastri fondamentali. L'inizio, la guerra, ma neanche più tanto che la guerra, ma quanto che lui fosse diventato un militare e che cosa ci faceva in Italia. Il resto l'ho dovuto costruire io basandomi su delle ricerche su internet, perché della Corea, noi, è una terra talmente lontana, anche la guerra di Corea, per noi europei, molti non neanche la conoscono. Allora, tu hai anticipato che la storia ha origine proprio dal conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud. Intanto il protagonista si chiama Yong Su, ma quando tu l'hai conosciuto aveva cambiato nome? Certamente, aveva preso il nome, ma non posso dire quale nome, perché sennò svelerei il finale del libro. Che si può intuire leggendo il libro e che si risolve nelle ultime 4-5 pagine, dove probabilmente c'è anche il momento dell'incontro. Allora, parte dalla Corea. Corea del Sud, c'è un paesino che si trova alla frontiera con la Corea del Nord. Dalla Corea del Sud ha ottenuto l'indipendenza, prima era sotto il gioco dei giapponesi, nel 1945, con la sconfitta dei giapponesi. Una pace che però dura poco, pochissimo. Dura soltanto 5 anni, perché la storia insegna che la Corea del Nord, volendo riunire le due Coree che non si sono mai riunite, praticamente dichiara guerra alla Corea del Sud e la invade dal 50 al 53, con 2 milioni di morti, che non hanno risolto nessun problema, perché nel 50 il parallelo 38esimo divideva le due Coree e ancora oggi è sempre il 38esimo parallelo. Questa scelta fu fatta dagli americani perché non bisognava andare a importunare più di tanto nei russi, che avevano appoggiato la rivolta comunista e anche i cinesi. Sarebbe rischiato molto per quello che la guerra si è fermata lì, perché gli americani potevano tranquillamente sfondare più verso nord. Sì, diciamo che il generale MacArthur, il comandante delle forze alleate, era arrivato addirittura fino a Pyongyang, ma aveva esagerato perché si era avvicinato troppo al confine cinese. I cinesi non è che avessero tanto piacere di avere gli americani in casa e di lì è nata una seconda. Sì, c'è da ricordare poi che MacArthur in quella occasione fu destituito, praticamente o meglio sollevato dall'incarico, con l'Ode, ma perché era una persona molto turbolenta. Sul confine ci sono delle incursioni di questi partigiani comunisti che fanno strage. Assassini, perché erano, per così dire, protetti dal regime comunista, potevano tranquillamente superare i confini e andare a razziare quello che trovavano in questi villaggi, uccidendo anche dei civili che non c'entravano assolutamente niente con la guerra o con la miseria con cui dovevano convivere. E il protagonista del nostro libro è Piccino, ha una decina d'anni, ha un fratellino con sé e assiste all'uccisione dei propri genitori. Sì, per fortuna sua e di alcuni altri piccoli del villaggio, in quel momento non era al villaggio, ma vede l'assassinio dei suoi genitori e quindi si ritrova a otto anni orfano e con la responsabilità di un fratellino di quattro anni, cinque anni, e doveva scappare da lì. Siamo nella più profonda campagna coreana, quindi anche il grado di istruzione è molto limitato, i ragazzini non andavano a scuola, i genitori gli insegnano le cose che si insegnano a tutti i bambini, se qualcosa succede perché c'era già la percezione, andate verso il sole nascente. Sì, e infatti su questo consiglio dato dal padre, lui e questi ragazzini si incamminano su sentieri che non conoscono, patiscono sete, fame, privazioni di ogni genere, qualcuno morirà anche in questo viaggio, perché le strade non c'erano strade, c'erano sentieri in montagna, quindi con tutti i pericoli possibili e inimmaginabili, ma per fortuna riescono a superare un gruppo di montagne e lì vengono accolti da dei contadini come i suoi genitori che li sfamano e poi li indirizzano in una città più grande dove verranno accolti dai gesuiti. C'è un aneddoto nel libro dove si parla dei ragazzini che scappano, uno si ferisce e viene curato con le slavazze, è un termine che si usa dalle nostre parti che sono queste foglie grandi dalle proprietà curative. Sì, tutto il mondo è paese. Tutto il mondo è paese, senza dubbio. E poi hai un primo incontro con i cristiani perché c'è una comunità che ancora oggi esiste, ma è limitatissima rispetto alle altre religioni. E questo padre fa riferimento a un'entità celeste, una signora che tutto sovrintende e tutto protegge. E qui c'è un po' di crisi perché il bambino naturalmente dice sì ma questa bella signora che è la mamma di tutti, è la mamma anche degli assassini dei miei genitori, ci sono dei contrasti e il padre spiega che sì è vero che è la mamma di tutti, però non è vero che protegge tutti e soprattutto non è vero che perdona tutti. Noi dobbiamo come cristiani perdonare. E qui c'è un po' di conflitto, soprattutto quando lui vedrà morire il fratellino, causa la broncopolmonite perché è curato in un orfanatrofio che tutto era forché un istituto benefico. Lui ha un incontro con una certa comunità cattolica che è quella? Dei gesuiti. Dei gesuiti che hanno questa missione nel loro ordine di portare in giro il verbo di Dio e vanno anche in stadi dove è obiettivamente piuttosto pericoloso a volte stare, però si dedicano molto. Quindi prima viene accolto da padre Marcel Bertout e poi, che è il rettore di un seminario, e poi a padre Gerard Morello, che è una delle figure centrali. Esatto, padre Gerard Morello è l'uomo che adotterà il protagonista di questa storia. Perché si rende conto che è un ragazzino molto intelligente. Sì, che è sufficientemente intelligente, ma soprattutto è curioso. È un bambino che legge tantissimo, legge tutto. Tanto è vero che fanno delle scoperte che lui neanche si immaginava, trovando dei libri di fotografie che gli erano stati regalati dai padrini il giorno del suo battesimo, della sua prima comunione. E questo ragazzo ha una fame di sapere enorme. E questo allarga le speranze di questo Gesuita, non solo di adottarlo, aiutandolo in tutte le maniere, ma anche con un sogno che lui diventi un domani, un sacciatote. Ma questo non avviene perché nei progetti umani, come si sa, le strade prendono strade diverse. E quando il padre Gesuita se lo ritrova davanti vestito da militare, capisce che... Che ha fatto un'altra scelta. Un altro aneddoto, che è tanta la curiosità che commette un piccolo peccato, il furto tutti i giorni del libro del padre, che è la Bibbia. Sì, certamente. Poi la ripone dove deve, però vuole sapere. Ma anche il vocabolario, perché c'erano due lingue, una lingua antica e una lingua moderna in Corea. E lui prendeva il vocabolario per poter leggere più velocemente i testi che trovava sotto mano. E finché se ne accorgono che questo vocabolario era sparito. Ma lui lo riponeva sempre. E la figura centrale di Gerard Morellet è perché poi diventa addirittura il massimo riferimento della Chiesa cristiana in Corea. Diventa il Vescovo. Diventa Vescovo. E il protagonista parteciperà alla cerimonia. Parteciperà alla cerimonia come i suoi padrini. E questo è un motivo in più anche per pensare che questa figura è stata illuminante per il personaggio. Illuminante. Illuminante anche con i fatti. Perché lui viene accolto in questa comunità. Lo sfamano, gli danno la possibilità di avere un riparo. Di studiare. E quindi lui si avvicina alla religione cattolica perché gli viene reglato anche un Vangelo. Che lui studia avvidamente e si pone anche molte domande su quelle che possono sembrare delle incongruenze anche a noi che siamo immersi nella cultura cattolica. Certamente. Lui diventa un vero cristiano. Fervente. Infatti partecipa sempre alla Santa Messa. Pur dovendo, con tutte le limitazioni determinate dal fatto che in Corea, dopo gli anni Sessanta, le religioni non erano bandite. Però chi indossava una divisa non era tanto ben visto. Lui comunque continua per quanto possibile a partecipare alla Santa Messa, a frequentare i sacerdoti che ha conosciuto. E questo è il tema fondamentale per cui ho scelto nel libro una fotografia particolare che è nel testo, che è sulla copertina, di un'alba, di un tramonto. Perché rispecchia, secondo me, molto bene un concetto umano che va verso una speranza. Poi se va avanti lui per poter studiare deve anche lavorare perché i frati non lo possono, i genuiti non possono mantenerlo. E fa una serie di lavori. Va in un peschereccio dove si renderà conto della cattiveria oppure della invidia degli altri. Andrà a fare il copista da un personaggio molto simpatico. Sì, è vero. Stava transitando per andare in biblioteca a cercare un libro. Quando vede, transitando davanti a un negozio, dove è scritto cercasi copista. E lui entra, è un signore anziano di quegli artigiani di una volta, però naturalmente orientale. E l'artigiano capisce che c'è una potenzialità in questo giovane che ha 14-15 anni. Però gli dice che non è un mestiere che si impara in 448. Perché la calligrafia deve seguire. È la calligrafia importante, tenerle il pennino in una certa maniera. Però ciò nonostante, decidono di trovare un accordo e lui riesce a guadagnare quei soldini che gli sono necessari per mantenersi durante l'estate quando non c'era la possibilità di andare a scuola. Diciamo che nel termine italiano è amanuense, forse più precisamente. Poi questi soldi gli servono anche per andare a fare il corso per entrare in marina. Certo. Supera l'esame e si imbarca. E qui c'è un episodio che fa riferimento alla guerra perché lui diventa uno dei responsabili di un sottomarino. Sì, lui viene imbarcato in un sottomarino anche se precedentemente aveva avuto un altro imbarco su un dragamine. Su questo dragamine succede un fatto, un incidente in cui un marinaio cade in acqua e lui non esita a spogliarsi e buttarsi e a salvarlo. E questo, finito sulle note del comandante, gli procura una stella d'argento che può vantare. E questa stella d'argento gli apre parecchie strade, cioè gli facilita l'ingresso anche in accademia. Poi lo facilita anche il fatto che in un certo momento c'è una figura femminile che non mancano mai. Per la verità ce ne sono anche prima. C'è la madre, ci sono le donne che lo hanno ospitato, le figlie di questa famiglia cattolica. Ma arriva la donna del suo cuore che è la figlia del console o dell'ambasciatore svizzero. Di un ambasciatore svizzero e in un ricevimento ufficiale in cui c'è la festa dell'unità nazionale. Lui conosce questa ragazza molto bella e riesce ad avvicinarla e con la scusa che lui era molto curioso spiega, e questo colpisce la ragazza, il fatto che lui sa tutto sulla Svizzera. Un paese lontanissimo, con formaggio, con i buchi, con gli orologi, con Neuschatel, dove era nata questa ragazza. E così nasce questa storia. Perché appunto è curioso e ha letto molto. Si può presupporre a questo punto che convoglieranno a nozze. Però questa operazione con il sommergibile succede un fatto che mette in serio pericolo tutto l'equipaggio e lui fa una promessa che non possiamo svelare e che peraltro è il titolo dell'album. Se ci salviamo io farò questa cosa. Si salvano e quindi la sua vita cambia nuovamente. Certamente, ma non possiamo raccontarla. Allora, abbiamo detto comunque molto. Il libro è interessante, ha molti riferimenti anche sulle ricerche che ha fatto sulla Corea. Perché è una guerra molto importante, ci siamo stati sull'orlo di un conflitto mondiale e pochi che conoscono la scuola sicuramente non ce lo hanno insegnato e non lo insegneranno mai. Però è stato un momento di grande tensione che per fortuna si è riusciti a superare anche in quella occasione. Quindi sono tutti questi riferimenti molto interessanti, oltre a note, che riguardano gli stili di vita, le abitudini, la religione della Corea. Insomma, hai fatto un bel lavoro. Sì, diciamo che il lavoro di costruzione del romanzo non mi ha comportato molta fatica. Mi ha comportato tanta fatica la ricerca storica, anche perché ci sono dei riferimenti grafici delle parole, i nomi coreani, i piatti tipici. E questo ha richiesto un po' di lavoro perché mi piaceva inserire una storia vera in un contesto credibile. Allora, questo libro può andare bene a coloro che amano i romanzi, a coloro che hanno un anelito religioso, un desiderio di capire, di conoscere. A coloro che amano la storia perché si possono recuperare delle informazioni, poi uno da lì parte e va a cercarsi degli approfondimenti. Quindi un libro che accontenta tante persone. Ma un libro che rimane confinato qui in provincia o che pensi di poter portare anche fuori? Vi partecipi a qualche premio, ad esempio? Allora, io in questo momento il libro è in diffusione in tutta Italia, in tutte le librerie d'Italia, partecipa alla mostra internazionale di Torino e di Roma e di Barcellona. Ma io l'ho iscritto anche in un concorso internazionale città di Como. Speriamo che naturalmente vada bene. Speriamo che vada bene, se non va bene, va bene lo stesso. Senti, questo periodo nel quale siamo stati confinati a casa, ti è stato utile per rileggerlo oppure per altre attività? Io diciamo che ho dedicato molte ore al computer e sono nati altri tre romanzi, ma aspettiamo che venga... perché io ho già presentato un altro saggio alla stessa casa editrice che ha detto molto bello, possiamo pubblicarlo. E io ho detto un attimo, un attimo, un attimo. Adesso intanto vediamo come va il primo. Poi io non mi chiamo Mauro Corona, per cui devo avere un po' di pazienza. Si può diventarlo un po' alla volta. Allora vi faccio vedere ancora la copertina di Alessandro Primon, La promessa. È un libro che sicuramente vi diletterà. Grazie Alessandro per avermi dato l'occasione di presentare il libro. Buona fortuna in bocca al lupo per le successive scritture, le successive stesure. Grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a voi. Grazie a tutti.